Un programma molto ricco, prevede tutte e tre le serate, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25, rispettivamente a Saltara, Serrungarina e Montemaggiore. Tutte le sere si comincia dopo le 18 e tutte le serate verranno aperte dal gruppo di rievocatori storici dei Greenliners. Dopodiché, prima di cena, giovedì a Saltara, presenteremo per esempio un libro, la storia di un capitano polacco che si fece internare ad Auschwitz per lavorare da infiltrato. Dopo cena, invece, ci sarà uno spettacolo teatrale, Radio Londra, di Sandro Fabiani. A Serrungarina, invece, dopo una proiezione storica di un videodocumentario girato proprio in quei giorni, tant'è che si chiama Dal Metauro al Foglia, dai reporter al seguito dell'esercito alleato, alla sera faremo rievocare quei giorni dagli anziani del paese. Fino ad arrivare a sabato, il clou della manifestazione, a Montemaggiore, dove, oltre agli onori militari e civili alla lapide, che ricorda proprio quei momenti, ci saranno una conferenza sul tema della moda, va di moda la memoria, per finire in musica e addirittura con un piccolo spettacolo di burlesque, che in quegli anni era un po' la musica della rinascita, del voler dimenticare gli orrori della guerra. Tutte le sere, le proloco dei paesi serviranno la cena, quindi ci sarà da mangiare, quindi chi vorrà venire sia prima di cena per l'iniziativa culturale, sia per quel di spettacolo del dopo cena, troverà la possibilità di mangiare. Domani sera poi c'è una testimonianza importante. Sì, domani sera fuori dal programma ufficiale della festa, siccome è nel nostro territorio la senatrice Ann-Marie Anders, figlia di quel generale Anders che guidò l'esercito polacco contro gli tedeschi proprio a Montemaggiore, e nelle zone fino a Fano, lei è in visita in questo territorio, e noi abbiamo colto l'occasione per farle inaugurare ufficialmente la festa, con un momento così ufficiale, inaugureremo la mostra fotografica di Giorgio Pegoli, che è stata installata all'interno del Teatro di Montemaggiore, e sarà aperta per tutta la durata della festa, e anche qualche giorno successivo, per tutti coloro che la vorranno osservare. Siamo diversi indivisi, in questo caso indivisa polacca, naturalmente, indivisa inglese, canadese, dalleati insomma. Non ci saranno i tedeschi perché non è il caso in questa manifestazione di Colli al Metauro.